Lo slittamento dei match nel girone H di Serie D non si ferma. La penultima domenica di novembre è ancora dedicata ai recuperi delle scorse giornate, ma la situazione resta precaria. Dei cinque match in programma da calendario se ne giocheranno soltanto tre. Sicuramente in campo l'audace Cerignola, che se la vedrà contro il Lavello in Basilicata. Gli ofantini si sono completamente ripresi dopo l'emergenza Covid che ha colpito la squadra di pazienza. Domenica scorsa è arrivato il primo successo stagionale contro il Portici nel recupero disputato dai gialloblu. Adesso la sfida contro un avversario decisamente più ostico, in un match in cui onorare la memoria di Matteo Dimmito, storico centrale difensivo del Cerignola, scomparso lunedì. Si giocherà anche la sfida tutta pugliese tra Taranto e Brindisi, con entrambe le squadre che hanno superato problemi sanitari nelle ultime settimane. Tra gli ionici si registra ancora la positività al Covid del direttore sportivo Francesco Montervino, che però non influirà sul regolare svolgimento della sfida. I messapici invece hanno recuperato i due tesserati positivi negli ultimi cicli di tamponi e sono pronti a tornare in campo per il match dello Iacovone, che dirà molto sulle ambizioni delle due squadre. Chiude un altro derby, quello tra Nardò e Casarano, con i rossazzurri che finalmente possono contare su un gruppo squadra totalmente negativizzato. La squadra di Feola è attesa al Giovanni Paolo II, con l'obiettivo di continuare l'inseguimento alle spalle del Sorrento, ma i Granata vogliono sfruttare il fattore campo per l'obiettivo salvezza. I padroni di casa, inoltre, sono tra le poche squadre a dover recuperare due partite, senza aver mai avuto casi di positività al Covid nel gruppo squadra. Nuovamente rinviate invece le altre due sfide in calendario. Gravina Fasano non si disputerà per via del tesserato, positivo e asintomatico, nella formazione murgiana. Continua invece la situazione grottesca in Campania, dove la Putriolana ha chiesto e ottenuto il terzo rinvio della sfida contro l'Altamura. I biancorossi hanno nuovamente preso atto con l'assegnazione di un nuovo slittamento, dopo che in una precedente occasione avevano ricevuto la comunicazione con la squadra generativa Torriannunziata. Anche per questi motivi, pur con tutte le difficoltà del momento, si attendono con ansia le modifiche al protocollo sanitario, attualmente al vaglio della Federcalcio. La ripresa dalla stagione regolare, da domenica a 29 novembre, slitta al 6 dicembre.